4, 5, 6 e 7 settembre a Pescara, a Villa di Rissis, si terrà la festa regionale di Sinistra Ecologia e Libertà. Tommaso Di Febo, segretario regionale, quattro giorni per far festa ma per parlare anche di politico ovviamente. Adelante la festa regionale di Sella Abruzzo, è un momento importante perché in questi quattro giorni organizziamo diversi appuntamenti per aprire delle discussioni sui temi più importanti che riguardano la nostra regione e l'Italia, a partire dal lavoro e dalla salvaguardia dell'ambiente. Inoltre è un momento anche importante perché diamo spazio alle band tipo lo Stato Sociale che avremo il venerdì 5 settembre ed è un modo per coinvolgere i giovani, per farli partecipare attivamente alla nostra festa e poi avremo diversi dibattiti politici a partire dall'iniziativa della prima giornata, il 4 con Fratoianni e Legnini, il 5 avremo oltre ai rappresentanti nostri all'interno del Comune di Pescara il Sindaco di Pescara, il 6 avremo Nichi Vendola alle ore 20, poi il 21 avremo un dibattito sulla politica regionale anche con il Presidente D'Alfonso, oltre Melilla, Mazzocca, il sottoscritto e Gianni Di Cesare. Di Febo, nel vostro documento chiedete stop a tutte le guerre, al terrorismo, alla violazione dei diritti umani? Sì, è un impegno preciso che noi come SEL stiamo portando avanti, è un impegno contro le violazioni dei diritti umani che ci sono in determinati territori del mondo, stop alla guerra e stop a qualsiasi tipo di genocidio. E' questo l'impegno su cui lavoriamo in questi mesi ed è una battaglia politica nazionale che stiamo portando avanti con forte determinazione.